Buongiorno a tutti e benvenuti sul canale dedicato al grande e ultra grande formato. Sono Marco Naratone. Continuiamo la serie di puntate dedicate alla sensitometria. Nelle prime due puntate avevamo studiato il comportamento di un materiale trasparente, il negativo, in relazione ai parametri fondamentali della sensitometria, esposizione e densità. In questa terza puntata facciamo lo stesso percorso, ma consideriamo materiali opachi, cioè la carta fotografica. Invece di parlare di trasmissione della luce attraverso un materiale sensibile, come era il negativo, parleremo di riflessione della luce su un materiale sensibile non trasparente, appunto la carta fotografica. Buon divertimento. Oggi parliamo di sensitometria quando applicata la carta fotografica. Qui non facciamo un trattato sulle carte fotografiche, quindi do solo un paio di informazioni di base per permettere di seguire la puntata. La prima informazione è che le carte moderne sono di tipo RC o FB. Le carte RC si chiamano così perché sono resin coated, da cui RC. Noi in italiano le chiamiamo politenate. Queste carte hanno un sopporto sintetico, una specie di plastica. Non si arricciano in asciugatura, al massimo si incurvano leggermente e richiedono poche attenzioni in fase di lavaggio. Le carte FB o fiber-based o baritate, come le chiamiamo noi in italiano, mi dice il nome, sono carte, tra virgolette, naturali. Il supporto, una specie di cartoncino, assorbe quindi la chimica di sviluppo, a differenza delle carte RC che, avendo la base in plastica, non l'assorbono. Quindi necessitano un lungo e delicato processo di lavaggio affinché la chimica di sviluppo non rimanga dentro la base, compromettendo l'archiviabilità della fotografia, cioè ingiallimenti e altre schifezze. Ci sono ottimi motivi per scegliere carte politenate, ce ne sono altri tante per scegliere carte baritate. Vi rimando ai tantissimi link, anche in italiano, che discutono i pro e i contro di ciascuna carta. La seconda informazione è che le carte tendono ad essere al bromuro di argento o al cloruro di argento. Le carte al bromuro di argento sono quelle tipiche da ingranditore, mentre quelle al cloruro di argento, diventate di difficile o difficilissima reperibilità, erano pensate per la stampa a contatto. Essendo queste ultime molto poco sensibili, richiedono tempi di esposizione molto lunghi, facilitando quindi operazioni di mascheratura anche complesse. Per rendere le cose più complicate ci sono poi carte che contengono una percentuale di bromuro d'argento e una di cloruro d'argento. La terza informazione è che vengono offerte carte di una specifica gradazione oppure multigradazione, multigrade. La gradazione è legata al gamma, insomma al contrasto. Esistono carte più contrastate e carte meno contrastate. Se però non si vuole fare scorte di tutte le possibili gradazioni di carte, esiste la soluzione, sempre più usata e comoda, francamente, di comprare carte multigradazione. Queste carte sono carte che offrono diversa gradazione, cioè diverso contrasto, illuminando la carta con una specifica lunghezza d'onda. Questo si ottiene semplicemente interponendo un opportuno filtro colorato dentro all'ingranditore quando si proietta il negativo sulla carta in fase di esposizione. Insomma, problema risolto con una carta multigrade e un pacchetto di filtri, al minimo 7. Il classico pacchetto di filtri Ilfor ne contiene 12. Si comincia con il bassissimo contrasto fornito dal filtro 00 giallo, per finire con l'altissimo contrasto fornito dal filtro 5 magenta. Consideriamo adesso queste curve nell'asse densità log E, o log esposizione, o log H, che vengono da un documento Ilfor, che rappresenta le caratteristiche della carta Ilfor Multigrade FB Classic, una tipica carta fotografica molto usata. Come vedete ci sono 5 curve per 5 filtri usati. Ricordo solo che c'è anche un filtro 4 e un filtro 5, che qui non sono mostrati. Consideriamo una qualunque di queste curve. Come si vede, come nel caso del negativo, c'è un piede, un tratto lineare e una spalla. Anche qui, come nel caso del negativo, le curve arrivano in un valore di massima densità, Dmax, e anche se si vede a fatica, c'è un Dmin superiore a 0, anche se tipicamente è molto, molto ridotto, se paragonato al negativo. C'è quindi una densità minima ottenibile, un Dmin. Il Dmax viene anche chiamato massimo annerimento della carta. Le curve hanno più o meno lo stesso Dmax e lo stesso Dmin, ma che raggiungono per diversi valori di log E, quindi per diversi valori di esposizione. Il tratto lineare ha anche pendenza diversa da curva a curva, e questo conferma quello detto sopra, cioè che il filtraggio determina il contrasto. Se usiamo un filtro 0,0 abbiamo un andamento lineare, molto lungo, un'inclinazione poco pronunciata, insomma la carta si comporta in modo, diciamo, morbido, molto poco contrastato. Questa scelta potrebbe essere pagante se abbiamo un negativo eccessivamente contrastato e vogliamo attenuare l'impatto. All'altro capo c'è il risultato usando un filtro 3. Qui il tratto lineare è molto più corto, la pendenza molto maggiore, il contrasto quindi molto elevato. Scegliere questa combinazione di carta più filtro potrebbe essere pagante se devo produrre una stampa da un negativo molto piatto, poco contrastato. Nel caso dell'uso di filtri 4 e 5, non mostrati qui, l'effetto è quindi ancora più pronunciato, no? In termini di contrasto. E di ulteriore accorciamento del tratto lineare, che diventa ancora più verticale. Abbandoniamo la nostra carta Hilford e passiamo a parlare in generale di sensitometria nel caso della carta. La prima cosa importante da ricordare è che la densità è una densità di riflessione e non di trasmissione, come nel negativo ho già detto tante volte. In quest'ultimo noi misuravamo la quantità di luce che passava attraverso il negativo. La carta è opaca, di luce non ne passa attraverso e quindi quando guardiamo una stampa la guardiamo attraverso la sua luce riflessa. Quindi mentre misuriamo una transmission density, una densità di trasmissione nel caso del negativo, nel caso della carta misureremo una reflection density, una densità di riflessione. Ok, la curva di densità della carta a piede, trattolineare spalla come quella del negativo, ma sono qualitativamente uguali? La risposta è no. Vediamo le differenze. Allora, 1. La spalla viene raggiunta per densità abbastanza basse e la saturazione, chiamiamola così, il raggiungimento di Dmax, è abbastanza brusca. È difficile trovare delle carte con un Dmax superiore a 2.1, per esempio. 2. I negativi tendono ad avere degli indici di contrasto abbastanza bassi, diciamo tra 0,5 e 0,8, e comunque abbondantemente sotto 1. Per compensare questo, le carte tendono ad avere degli indici di contrasto più elevati. Quindi la pendenza del tratto lineare è maggiore, tipicamente da 1,5 a 3,5, a seconda del contrasto che si cerca. 3. Il piede si estende molto verso la destra, attenzione, ho detto destra. In altre parole, l'incurvatura del piede avviene ancora per valori di D relativamente elevati. 4. Poiché la pendenza del tratto lineare è più elevata che nel negativo, anche la sua lunghezza cambia, è di molto. Il tratto lineare nelle carte è molto più corto, in alcune carte si arriva a non avere un vero e proprio tratto lineare, si passa quasi senza soluzione di continuità dal piede alla spalla. 5. Il velo, sempre che la carta non sia stata accidentalmente esposta alla luce o sia stata usata alla luce di sicurezza sbagliata, è ridottissimo, il velo è ridottissimo. Il motivo per cui il piede si estende molto e il tratto lineare è molto pendente deve al fatto che la luce riflessa, ha dovuto attraversare due volte l'emulsione. La luce che colpisce la carta penetra nello strato di argento, rimbalza contro il supporto opaco e riattraversa l'emulsione per raggiungere lo strumento di misura, o ai nostri occhi quando guardiamo una stampa. Che cosa determina il valore di D-max in una carta? Ricordando che stiamo parlando di riflessione e che la luce attraversa l'emulsione due volte, cerchiamo di capire i fattori che determinano il D-max. Facendo riferimento a questa figura, allora, innanzitutto abbiamo due famiglie di carte, quelle lucide o glossi e quelle opache o matte. Inoltre, le prime hanno una superficie molto liscia, mentre le seconde hanno una superficie ruvida. Un raggio incidente di luce che colpisce la superficie viene in parte riflesso all'indietro dalla prima discontinuità aria-emulsione, anzi, per essere più precisi, aria-gelatina, dove le particelle di argento sono annegate. La seconda riflessione avviene internamente all'emulsione. Il raggio incidente viene riflesso dalla particella di argento stessa. C'è poi una terza discontinuità, quella del passaggio-emulsione-base. Quindi c'è una terza riflessione. La somma di queste tre riflessioni determina la quantità di luce che raggiunge l'occhio di chi guarda la foto oppure il sensore del densitometro. Quindi determina la densità. Possiamo evitare la terza riflessione, quella sulla discontinuità-emulsione-base, aumentando l'esposizione e quindi la quantità di argento nell'emulsione. Impediamo quindi ai raggi incidenti di raggiungere la discontinuità-emulsione-base. Ma la prima e la seconda riflessione devono essere gestite in modo diverso e sono loro che determinano il D-max. Intuitivamente le carte lucide hanno molta riflessione diretta, per cui la quantità di luce che entra nell'occhio è ridotta, si dice a tono all'1%. Le carte opache o matte, per la loro irregolarità superficiale, diffondono molto la luce e quindi all'occhio ne arriva una quantità maggiore rispetto al caso delle carte lucide. Da qui ne deriva l'osservazione che le carte lucide hanno un D-max maggiore delle carte opache. Si passa da un D-max attorno a 2,1 nel caso di carte glossie ad un D-max di 1,3 nel caso di carte matte. Carte semi-matte stanno a metà di questi valori, 1,7 e 1,8. Questi valori sono abbastanza indipendenti dal fatto che il materiale usato sia il bromuro o il cloruro di argento. Anzi, la carta lodima al cloruro di argento, che per un certo periodo fu un ottimo sostituto dell'originale coda cazzo, aveva un D-max veramente ottimo, che sfiorava i 2,3. Ecco, come varia il comportamento della carta a variare però del tempo di sviluppo? Ripercorriamo il percorso fatto con il negativo, ma questa volta applicato alla carta. Un esempio tipico relativo ad una carta al bromuro di argento è mostrato nella figura La carta in questione richiede uno sviluppo, sviluppo tra virgolette normale, di 120 secondi. Questo è un valore abbastanza tipico per questo genere di carte, un paio di minuti. Difficilmente si scende comunque sotto il minuto di sviluppo. L'effetto di uno sviluppo prolungato si vede sia in un aumento della velocità della carta, spostamento verso la sinistra, che in un aumento della pendenza, cioè del contrasto. In entrambi i casi però l'aumento non è così drammatico come nel negativo, però può essere di aiuto quando si deve gestire un negativo difficile. Notate anche che da 90 secondi in su il D-max si mantiene costante. Questo intervallo tra 90 secondi e 480 secondi, dove in pratica si raggiunge il D-max possibile, non c'è aumento di velo, ma si modifica la velocità e il contrasto della carta e la latitudine di sviluppo di questa carta. Il loro rapporto è la latitudine di esposizione di stampa. In questo caso 480 diviso 90 è poco più di 5. Il processo di stampa corretto di un negativo consiste nel posizionare le aree alle alte luci sul piede della curva della carta e le ombre del negativo nella spalla della curva della carta. Se vogliamo però parlare di questo in termini sensitometrici, diciamo che il logaritmo dell'intervallo di esposizione della carta deve essere uguale all'intervallo di densità del negativo. In altre parole, abbiamo una situazione come quella in figura. Questo dimostra, se vogliamo, la necessità di fornire carte di differente contrasto oppure carte che possono, tramite opportuno filtraggio, avere dei contrasti differenti, dato che, come abbiamo visto, lo sviluppo, in particolare i tempi di sviluppo, ha nella carta, a differenza che nel negativo, un impatto sul contrasto un po' limitato. Oltretutto, non dimentichiamoci che il negativo parte da un soggetto, il quale esso stesso può avere un suo naturale, scarso contrasto, o eccessivo contrasto. Il poter modificare il contrasto anche in fase di stampa è quindi fondamentale. Ma il contrasto di una carta, come cambia al cambiare della sua gradazione naturale o ottenuta nelle carte multi-grade tramite filtratura. Ok, vediamolo in questa figura. Anche in questo caso facciamo riferimento a delle curve tipiche della carta al bromuro di argento. Le tre carte sono state sviluppate con identica chimica e tempo di sviluppo. Notiamo che il di max è lo stesso, è lo stesso dicasi per il di min. L'inclinazione della curva è però differente, molto accentuata nella carta che abbiamo chiamato dura e che quindi avrà un contrasto elevato. All'estremo opposto c'è la carta cosiddetta morbida, dal contrasto poco accentuato. Notate anche la differenza di intervalli di esposizione, che nel caso della carta dura sono particolarmente brevi. La carta dura, per usare un modo di dire, perdona meno della carta morbida e richiede particolare attenzione nell'essere usata. Se vogliamo ottenere dei risultati convincenti, dovremmo usare la carta dura ad alto contrasto con negativi con basso intervallo di densità e quindi usare una carta morbida a basso contrasto con negativo ad elevato intervallo di densità. Quindi carte morbide sono caratterizzate da un ampio livello intervallo di log H e quindi di una maggiore latitudine di esposizione. Ecco, sembrerebbe quindi una buona idea di esporre e sviluppare il negativo in modo da poter sempre usare carte morbide. In teoria il ragionamento ha una sua logica, ma il problema è che se ci mettiamo un po' con le spalle al muro, togliendoci l'opzione di correggere errori di esposizione o sviluppo del negativo che hanno generato eccezionale contrasto, non è una bella scelta. Meglio quindi cercare di produrre un negativo adatto alla stampa su carta di medio contrasto, diciamo due. Vale la pena di accennare ad una tecnica che è spesso usata per diminuire il contrasto della carta prima di esporla al negativo, e cioè l'uso del pre-flash. Il pre-flash consiste nell'esporre la carta ad una luce uniforme prima di usarla. La tecnica sembra abbastanza esoterica, ma la presentiamo qui perché il pre-flash non viene usato solo in camera oscura prima di esporre la carta al negativo messo nell'ingranditore. Un secondo uso è per chi vuole usare la metodologia di in-camera photography in bianco e nero. Qui la tecnica del pre-flash viene usata, anzi deve essere usata, per non ottenere stampe esageratamente contrastate. Per coloro che non hanno visto le puntate introduttive all'ultragrande formato, la tecnica di in-camera photography consiste nel mettere dentro lo chassis, il porta pellicola, nel nostro banco ottico, invece di un negativo, una carta positiva. Scantando in questo modo e sviluppando la carta, si ottiene una stampa in bianco e nero e si evita il passaggio intermedio al negativo. Torniamo insomma indietro al daguerrotipo, no? Le carte che tipicamente si usano per in-camera photography, due nomi fra tutti, Harman e Nars, Imago, sono carte ad elevato contrasto, molto elevato contrasto e per ottenere dei risultati pittoricamente piacevoli bisogna applicare del pre-flash a queste carte. In pratica si mette la carta dentro lo chassis, si inserisce lo chassis nel banco ottico, si mette davanti all'obiettivo un filtro opalino bianco, si scatta e si vela quindi la carta, si toglie il filtro opalino e si fotografa poi il soggetto normalmente. Vale quindi la pena di dare uno sguardo a come cambia la curva densità log H usando il pre-flash. Vediamolo in questa figura. Fondamentalmente un aumento dell'illuminazione della carta diminuisce il contrasto all'aumentare del tempo e o della densità di illuminazione. L'effetto non viene gratuitamente, in quanto c'è anche un aumento della densità minima del velo, ma se non si esagera con il pre-flash la profondità dei neri è ancora assolutamente accettabile. Purtroppo, come avrete già notato, tutta la discussione è stata molto vaga, ho usato termini non quantitativi. La tecnica del pre-flash è troppo complessa da mettere in equazioni, cambiando oltretutto da carta a carta, con la lunghezza d'onda della luce che illumina in pre-flash e così via. Francamente l'unico modo è di sperimentare, con la carta che si usa, la sorgente luminosa a disposizione e così via. Lo scopo di introdurre il pre-flash era di far sapere che esiste e qual è l'effetto generale che produce. Una seconda tecnica avanzata di stampa è quella che va sotto il nome di Split Grade Printing, cioè stampa con due gradazioni, traduzione è tutta mia. Ricordando il pacchetto di filtri Ilford che va da 00 a 5, la figura mostra la curva, densità e esposizione dei sette filtri per una carta come la Ilford Multi-Grade 4. Ecco, vediamo subito che da 00 a 3 le curve si incontrano nello stesso punto che corrisponde anche alla velocità della carta. Quindi dal punto di vista dell'esposizione, i primi 5 filtri sono intercambiabili. Si può usare lo stesso tempo, diverso il comportamento, di 4 e 5 che richiedono un aumento della durata di esposizione di circa uno stop. Notiamo inoltre che le curve diventano sempre meno pendenti agli estremi, cioè alle alte luci, in basso, e nelle ombre, in alto. Abbiamo quindi una separazione tonale sempre meno accentuata. Abbiamo in sombra una compressione alle alte luci e nelle ombre, ma la compressione delle gradazioni dei grigi è l'ultima cosa che vorremmo, perché toglie ricchezza alla stampa. La stampa Split Grade sfrutta le non linearità di queste curve per produrre un'ottima separazione tonale sia alle alte luci che nelle ombre. Questo si ottiene esponendo, per esempio, la carta prima attraverso un filtro come lo 00, a bassissimo contrasto quindi, e poi attraverso un filtro 5 ad alto contrasto. Ecco perché si chiama Split Grade. Si separa, Split, la gradazione in due, una a basso contrasto ed una ad alto contrasto. Con una si controlla la distribuzione tonale alle alte luci, con l'altra nelle ombre. La teoria dietro a questa tecnica non è banalissima ed esula da questa puntata introduttiva alla sensitometria. Dedicheremo una puntata alla tecnica di stampa Split Grade nel futuro. Per chi volesse saperne di più subito, ho messo dei riferimenti nella descrizione della puntata. Ecco, a questo punto abbiamo in mano gli elementi minimi per ottenere l'obiettivo ultimo del nostro fotografare in bianco e nero, cioè produrre delle stampe di qualità. Di qualità significa cosa? Diciamo che gli obiettivi in una stampa di qualità sono essenzialmente due. Il primo è di catturare nella stampa tutte le sfumature di grigi che riteniamo importanti nella caratterizzazione della nostra stampa. Catturare, tra virgolette, significa evidenziare le tonalità, significa che non si appiattiscono l'una sull'altra in modo da essere indistinguibili. Il secondo obiettivo è di usare la piena potenzialità della carta, cioè sfruttare l'intero intervallo di densità che la specifica carta scelta ha, cioè coprire l'intero intervallo da di mina di max, dai neri più profondi al bianco. Tutti i sistemi di 1. Esposizione del soggetto, 2. Sviluppo del negativo, 3. Esposizione della stampa, 4. Sviluppo della stampa, di cui abbiamo sentito spesso parlare, il più famoso era il sistema zonale, non sono nient'altro che delle metodologie strutturate e ripetibili per il raggiungimento dei due obiettivi lencati sopra, che ripetiamo sono 1. Catturare e separare tutti i toni da noi ritenuti importanti e 2. Usare la carta alle sue massime prestazioni. Come mai tanta attenzione viene posta alla filiera soggetto negativo stampa? Perché l'intervallo di luminanza di un soggetto è quasi sempre non semplicemente più elevato dell'intervallo di densità minima e massima della carta, ma molto più elevato di questo. Stampare il negativo vuol dire quasi sempre comprimere i toni di grigio e la compressione, per sua natura, mette insieme quantità che prima della compressione erano separate. Nel nostro caso c'erano dei toni di grigio che nel soggetto erano visibilmente distinti e che finiscono sulla carta fotografica ad avere lo stesso livello di grigio o due livelli talmente vicini che l'occhio non è in grado di distinguerli. La cosa può essere assolutamente benvenuta, oppure un disastro, a seconda che la foto beneficiava, a nostro giudizio, ovviamente, dalla separazione di questi due toni, oppure no. Questo è il motivo di base per il nostro faticare a stampare bene. Insomma, tante altre cose si potrebbero dire sulle nozioni di base di sensitometria applicate alla carta, ma lo scopo di questa puntata non era di caratterizzare nei minimi dettagli le carte fotografiche, ma di fornire le basi per poter essere in grado di usare nella pratica le nozioni base di sensitometria. Nella prossima puntata inizieremo a parlare di sensitometria nella pratica quotidiana, iniziando con il conoscere il densitometro che intendo usare in questi video. Per non dare l'impressione che non si possa fare niente senza spendere tante centinaia di euro per un vero densitometro, presenteremo anche una soluzione che ci permette di servirci delle nozioni di sensitometria senza dover acquistare un densitometro, ma con una spesa molto più ridotta o addirittura senza spendere un euro. Ciao a tutti. Ciao a tutti.